RFK Human Rights Italia apre la sua nuova sede a Napoli, la seconda nel paese dopo quella di Firenze. Un passo significativo verso la promozione di una cultura diffusa dei diritti umani che sceglie per la base delle proprie attività i quartieri spagnoli e una fondazione che sui diritti, l'emancipazione sociale e il cambiamento ha impostato dieci anni fa la propria missione, FOCUS. Alla presenza di Kerry Kennedy, figlia di Robert, Presidentessa del Robert Fitzgerald Kennedy Human Rights accolta delle istituzioni da tutti gli enti che partecipano al progetto di FOCUS è stata inaugurata la sede del Mezzogiorno che da oggi si annuncia La filosofia della nostra fondazione è che coloro che sono più vicini ai problemi sono anche più vicini alle soluzioni ma sfortunatamente in molti casi sono poi più lontani dal potere di produrre il cambiamento quindi ecco perché noi siamo qui a FOCUS, nel cuore dei quartieri spagnoli dove già ci sono tante realtà che lottano per promuovere i diritti fondamentali e porteremo avanti dei programmi di educazione ai diritti umani e speriamo anche di poter lavorare con i migranti per favorirne l'integrazione nella società italiana. I quartieri spagnoli in questo senso rappresentano un contesto emblematico delle contraddizioni contemporanee e al tempo stesso un laboratorio sociale per sperimentare nuovi modelli di cittadinanza, partecipazione ed inclusione Il lavoro della fondazione FOCUS in questi dieci anni è stato un deciso fattore di cambiamento come evidenziato dal direttore generale Renato Quaglia È emblematico aver scelto di aprire qui una sede ma l'orizzonte su cui la fondazione Kennedy e quindi noi stessi anche ci muoveremo sarà quello innanzitutto del Sud Italia ma con uno sguardo dichiaratamente rivolto al Mediterraneo, alle aree di crisi, alle autocrazie per sostenere il lavoro di attivisti, dissidenti e di persone laddove ci sarà bisogno di un nostro intervento.